Le previsioni meteo in Sicilia per sabato 26 ottobre di Globus Television Sabato, giornata di alta pressione sulla nostra regione, giornata contrassegnata da condizioni di tempo asciutto, cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto Temperature massime fino a 24 gradi, valori notturni senza variazioni Venti meridionali Mari, Martirreno poco mosso, Marionio poco mosso, stretto di Sicilia molto mosso Grazie a tutti